Ciao a tutti, per chi non mi conoscesse io sono Anthony Lion e da poco ho cominciato a collaborare con Passive in Camitalia. In questo mio primo video vi propongo un qualcosa di diverso dal solito. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Reload People Ltd, società di diritto anglosassone, presenta Reload ZX, The Sharing Evolution, ovvero l'evoluzione della condivisione. Cercherò di essere breve. Reload ZX è una potente piattaforma social, la community è al centro di tutto l'ecosistema Reload. Chi entra in Reload versa una fee annuale, accessibile a tutti, di soli 70 euro ed è l'unica piattaforma al mondo dove i vostri dati non vengono svenduti. Tutto questo perché l'azienda ci tiene a fare una cosa completamente diversa da tutte quelle esistenti nel mondo. La privacy per l'azienda Reload è importante e vi porterà in un mondo di opportunità che adesso andremo a vedere insieme in maniera rapida e veloce. Non mi soffermerò su ogni punto dell'ecosistema ma vi terrò aggiornati tramite i nostri canali ufficiali ogni volta che un nuovo servizio verrà implementato. Nell'ecosistema è presente il tag di cui andremo a parlare a breve e poi una serie di cose che entreranno nel tempo come il turismo che è un settore potentissimo in tutto il mondo, l'e-commerce, tutti hanno un e-commerce ma nessuno avrà un e-commerce come il nostro, ci saranno molti vantaggi per gli affiliati. Ci sarà la parte benessere che è una branca importantissima, ci sarà l'accademia che fornirà corsi di formazione di vario tipo, ci sarà la blockchain che è un aspetto fondamentale per il passaggio al mondo decentralizzato previsto entro fine 2023 che garantirà a tutti voi di essere in un'azienda intoccabile. Ci saranno le cripto, attraverso queste cripto avrete tutti voi una rendita stabile e continua nel tempo. Ci sarà loro che sarà fondamentale per il futuro di tutti noi, ci sarà un'agenzia matrimoniale che sarà l'unica al mondo veramente gratis, ci sarà un piano auto e un piano casa, non dico niente ma sarà una cosa mai vista prima, e infine ci sarà un'app di messaggistica avanzata con una comunicazione peer to peer molto particolare poiché completamente criptata e in blockchain. Quindi qualsiasi cosa ci diciamo da quando sarà attiva quest'app sarà sconosciuta a chiunque. Quando tutto sarà attivo per tutti voi niente sarà come prima, questo ve lo possiamo garantire. Il tag subito, non appena la persona si iscrive e versano le sue 70 euro, riceve subito il tag in forma gratuita. Questo tag è il nostro biglietto da visita digitale, è questo bollino autoadesivo che si attacca nella parte posteriore del telefono, tramite la tecnologia NFC, ci permette di trasferire i nostri dati in un secondo. Colui che riceve i dati non ha bisogno di avere il tag ma semplicemente deve avere l'NFC attivo. L'NFC è presente nei telefoni di ultima generazione degli ultimi 7 o 8 anni. Questo rappresenterà un mix di evoluzione e comodità. Voi avrete il miglior biglietto da visita di sempre. Andiamo ad esaminarlo. Come vediamo su questa slide avremo la possibilità di inserire la nostra foto. Il software genererà un QR code personale. Possiamo inserire il nostro nome e cognome, l'azienda per cui lavoriamo, la nostra email, il numero di telefono, whatsapp, il sito internet e i collegamenti a tutti i nostri social. Quindi una persona tramite il mio biglietto può cliccare sull'icona di facebook e sbarcare sulla mia pagina facebook o qualsiasi altro social presente nel bigliettino. Possiamo anche inserire tantissime cose tipo la mappa di casa o dell'ufficio. Pensate ad un architetto che vuole mostrare i propri progetti, un curriculum vitae, dei video, pensate ad un videomaker, una galleria fotografica, pensate ad un fotografo o un artista che vuole mostrare le sue opere e soprattutto sono presenti tre tasti importantissimi. Andiamo a vederli insieme. Il primo tasto è add to contact dove una volta cliccato salviamo tutti i nostri dati in rubrica in un secondo. In basso a destra troviamo il tasto share. Quando una persona si attiva su reload ottiene immediatamente il biglietto da visita sul suo telefono e potrà condividerlo da subito tramite whatsapp o altri canali. Dopo 3 o 4 giorni riceverà il tag e potrà fare anche tag con altri telefoni fisicamente. Il terzo tasto è il get your reload. Quando la persona che riceve il mio bigliettino dice wow lo voglio anch'io basta dirgli di cliccare su get your reload e verranno indirizzati sulla pagina di registrazione e in pochi minuti anche loro avranno il loro biglietto digitale. Quindi questa persona entrerà nella vostra prima linea. Questo biglietto è trendy, utile a tutti e dinamico perché potete cambiare i vostri dati in qualsiasi momento e non dovrete spendere ulteriori soldi per produrre nuovi biglietti da visita cartacei. L'azienda ha creato una tecnologia estremamente versatile e innovativa nel settore delle NFC. La tecnologia NFC in realtà la conosciamo già poiché è presente nelle nostre carte di credito e di debito se pensate a quando paghiamo appoggiando la carta sul dispositivo. È presente nelle schede che ci vengono fornite nell'albergo per aprire la nostra stanza. Questo è il tag dell'azienda e in questo momento è disponibile solo per il retail. I retail sono tutti privati, persone che conosciamo, amici e conoscenti. Tra un mesetto verrà introdotto il corporate. Che cos'è il corporate? Il corporate sono tutte quelle aziende medio, piccole e grandi, private e pubbliche. Immaginate una grossa banca dove tutti i dipendenti avranno il tag con il logo della banca, sempre targato by reload, che gestirà il tutto per conto di quella banca. Entro uno o due mesi il tag verrà aperto anche per i merchant. I merchant sono sempre aziende ma specializzate. Parliamo di ristoranti, pizzerie, pub... Il merchant è una cosa fantastica perché ci permetterà di trovare il tag al posto del QR code. Avvicinando il telefono al tag avremo il menu sul nostro telefono e in più lingue. Avremo la possibilità di ordinare tramite telefono e mandare l'ordine direttamente alla cucina. E da quel momento in poi, accettando la privacy, possiamo ricevere notifiche push riguardanti le offerte e promozioni dei merchant. Per esempio uno dei merchant vicino casa fa la serata pizza e birra al 50% il giovedì o serata karaoke il lunedì, noi riceveremo queste notifiche. C'è un'indagine statistica che dice che entro sei anni 1,2 miliardi di persone avranno questa tecnologia. Ecco perché il reload sta facendo di tutto per essere il numero uno al mondo. Perché i numeri uno? Ovviamente ci sono altri competitor che magari hanno solo biglietti da visita, ma reload vuole creare una piattaforma social interamente implementabile. Se pensiamo a quando è nato Instagram, per esempio, c'era già Facebook, ma sicuramente Instagram puntava ad essere migliore di Facebook, e così per TikTok e così anche per reload. Reload vuole essere il numero uno anche nel marketing. Reload è una affiliate marketing che è il modo migliore per diffondersi al mondo. Hanno creato un piano compensi. Questo piano compensi è molto remunerativo, è sostenibile ed è trasparente. Lo vedremo a breve. Reload ZX è fortemente replicabile e quindi virale. Passa che ne parlate con un amico, gli fate tag e in due minuti gli avete già fatto vedere di cosa si tratta. È fantastico, molto molto semplice. Abbiamo detto che il costo annuale è di 70 euro più 10 di spedizione, ma la cosa fantastica è che alla rete l'azienda darà 50 euro dei 70, più del 70% degli incassi di reload. Questo perché l'azienda vuole creare una community. Bene, diamo un'occhiata al piano compensi. Un piano compensi molto semplice. Parliamo di un unilevel, non è un binario. Quindi mettiamo due diretti in prima linea e sblocchiamo quattro profondità. Mettiamo quattro diretti e sblocchiamo otto profondità. Mettiamo sei diretti e abbiamo tutte e quindici le profondità sbloccate. Il nostro obiettivo è di arrivare a sbloccare almeno le prime otto profondità che ci darebbe un montante di circa 60 mila euro. In questa griglia è stato fatto un calcolo di matematica dimezzata. Cosa vuol dire? Se io ho messo sei persone nella mia prima linea, queste sei non ne mettono sei a loro volta, ma abbiamo simulato che ne mettono tre ciascuno e così via per le altre linee. Vedete che solo nella decima profondità escono numeri pazzeschi, ma ricordatevi che avete 15 profondità. In basso vedete 50 euro cercati in verde, che non è altro che la somma delle commissioni sulle 15 linee. Questo per sottolineare la trasparenza dell'azienda di cui parlavo prima. Ma attenzione non è finita qui. Per coloro che non sono abili nel proporre il progetto o non hanno tempo o non hanno voglia, l'azienda ha creato il programma 100x8 che vi permette di utilizzare i funnel di vendita della pubblicità. Andiamo a vedere come funziona. Mettete 100 euro in pubblicità e otterrete 8 persone in prima linea. Questo programma dovrebbe essere attivo tra un paio di mesi. Se interessati vi comunicheremo in futuro i dettagli per partecipare tramite i nostri canali. Ora vediamo la griglia compensi del 100x8. Allora non appena avete gli otto diretti avrete ricavato 104 euro, quindi 4 euro in più del costo del programma. In questa griglia abbiamo ipotizzato che solo il 40 per cento dei nuovi aderisca al programma 100x8. Possiamo vedere che in ottava profondità si raggiungano i 120 mila euro. Ricordiamoci che anche qui ci sono 15 profondità. Questa griglia può essere aggiunta alla griglia nera che abbiamo visto prima, che è quella di tutte le nostre amicizie. Questa invece è di tutte quelle persone che non conosciamo che entreranno nella nostra rete tramite i funnel. Quindi qual è il target di Reload ZX? Il target di Reload sono tutti gli utenti ZX dai 14 ai 90 anni. i networker che hanno già una loro rete e hanno bisogno del nostro bigliettino digitale. E infine gli influencer che ci permettono di fare un lavoro eccezionale. Vi faccio vedere una tabella per darvi un'idea. Allora abbiamo diviso gli influencer in sei categorie, dal nano con 10 mila follower alla star con 5 milioni. Vediamo cosa succede con un tasso minimo di adesione del 3%. Il ritorno per l'influencer va dai 3.900 per il nano ai 19.500 per il micro e via dicendo solo dalla prima linea. Quindi se un influencer promuovesse il tag di Reload ZX potrebbe ottenere questi risultati facilmente. E se Marco ha inserito questo influencer, Marco dalla sua seconda linea avrà questi tipi di risultati. E tutto questo in pochi giorni, poiché l'influencer lavorano in un modo diverso rispetto agli altri business. Questa tabella è importante perché potrebbe dare a tutti voi una bella accelerata. Quindi ricapitoliamo cos'è Reload ZX. Reload ZX è tecnologia e innovazione, guadagno e soprattutto famiglia, perché l'azienda vuole creare una famiglia, poiché è un'azienda che ascolta tutti, dal primo all'ultimo arrivato. C'è anche un'e-mail specifica dove potrete mandare i vostri feedback e idee riguardo a quello che si potrebbe fare nel mondo con i tag. E se l'azienda riterrà l'idea valida, oltre ad implementarla nel sistema, vi premerà e vi avvicinerà al management. Creare una famiglia non è facile e quindi l'azienda ha deciso. Regaliamo l'azienda a tutti coloro che credono in noi, perché un'azienda che vi dà il 70% degli introiti rende l'azienda vostra. Al momento Reload sta stringendo partnership con molti brand per poter sviluppare tutto l'ecosistema entro fine anno, come abbiamo detto all'inizio. E come potete capire dall'immagine del mystery box, a breve verrà annunciata la prima partnership. Io ho concluso con il video, quali sono i passi da fare? Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale e metti un like, registrati a Reload ZX e attivati tramite il link che trovi in descrizione e unisciti al nostro gruppo Telegram per rimanere aggiornato sul mondo Reload. E infine fai tag a tutti. Io vi ringrazio ancora e vi auguro una buona giornata, ci vediamo presto con i prossimi aggiornamenti. Se hai bisogno di supporto e vuoi entrare a far parte di uno di questi progetti, ti basterà entrare nel nostro canale Telegram, trovi il link nella descrizione del video e ti ricordo che nel canale YouTube nella sezione playlist troverai la lista dei business che stiamo seguendo. Grazie per aver visualizzato questo video e se sei iscritto al canale, grazie per far parte di questa community.